Benvenuti a questa nuova puntata di MTI in cui ho deciso di tornare a fare una video recensione cinematografica. Probabilmente vi sarete abituati a sentirmi sul podcast di Fantascientificast, ma la prossima puntata in uscita sarà già bella pregna, quindi... Come avete visto dal titolo parlerò di ben tre prodotti di altissimo livello, ma prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, commentare, mettere like e seguirmi su tutti gli altri miei social. Ora mi focalizzo subito su Tenet e sul super palindromo latino Satora Repo Tenet Opera Rotas a cui si ispira. Quest'ultimo film di Nolan si presenta come un netto miglioramento rispetto ad un Interstellar e non vuole essere un gran complimento visto che reputo Interstellar un pessimo film sia dal punto di vista della trama che della scienza applicata. Ma è comunque una buona base di partenza, diciamo. Dotato, questo film, di una bellissima fotografia e di scene d'azione ottimamente costruite, non ci si può aspettare certo di meno da Nolan, ha però una trama che è fin troppo classica, dove c'è il super buono e il super cattivo, senza sfumature nel mezzo. Probabilmente questo unito ad un intreccio lineare rispetto ad un apprendimento del protagonista è un grosso aiuto per lo spettatore che praticamente per due ore e quaranta è totalmente preso dal cercare di capire il meccanismo che stia la base degli eventi, estremamente controintuitivo rispetto a quanto possiamo sperimentare nella vita di tutti i giorni. Ora, non voglio fare spoiler, ma nel caso andate avanti di una ventina di secondi, se non volete sentire delle uniche trovate veramente degne di nota di questo film di fantascienza, in tutto sono tre, il tornello temporale, un modo per cambiare senso di marcia soggettivo del tempo, la manovra tenaglia temporale, eseguire una stessa missione contemporaneamente, ma in flussi temporali opposti, e infine l'occupazione dello stesso spazio, legacy in quadratura, con soggetti in differenti andamenti temporali. Palesemente è un film sulle logiche temporali, ma a parte quanto detto poco sopra, non ha nulla di innovativo e per uno che ha superato decenni di dinamiche temporali in film e serie tv è quasi ovvio. Quasi. Il vero problema di questo film però è tutto nella costruzione dei personaggi, un difetto di Nolan che risultano poco profondi e a cui lo spettatore non riesce a legarsi. Il super buono fa solo le scelte per se far guardare il mondo senza mai farsi vere domande su cosa stia realmente combinando. Il super cattivo è super cattivo perché la vita è stata così e anche la sua missione è come il capriccio di un bambino. La donna maltrattata a cui viene tolto il figlio poi sembra la persona più insensibile e meno legata alla famiglia che manco Nicolas Cage in Family Man. Questo Tenet pertanto è un film che fa il suo compitino portando a casa diverse cose positive, ma che secondo me difficilmente tra una decina d'anni citeremo come un Matrix o un Avatar. Finalmente posso parlarvi di Cobra Kai, una bellissima serie tv nata sotto la stella di YouTube Red e che sta sbocciando solo ora che è passata sotto Netflix, che ne ha addirittura messa in cantiere una terza stagione. La storia riprende le gesta dei due protagonisti del mitico Karate Kid a distanza di quasi 30-35 anni. Non c'era probabilmente bisogno di ritirare fuori questa saga del cinema giovanile anni 80, ma il risultato ottenuto è probabilmente tra i migliori di sempre in questo genere di seguiti a distanza. Fantastico. Infatti oltre una visione da un differente punto di vista di quanto accaduto nella sfida finale del primo film tra Johnny e Daniel, proprio su questo senso di ingiustizia subita e la rivalità mai chiarita tra i due, si basano queste due stagioni, di cui la seconda addirittura più incentrata all'educazione e ai problemi dei più giovani. Ma la prima stagione fa vedere come Johnny non sia quella persona così cattiva come tutti abbiamo sempre creduto e che Daniel non fosse quell'eroe senza macchia e senza paura che sconfigge il mostro. La grandiosità di questa serie è tutta qui, il riuscire a dare uno spessore incredibile ai personaggi creando quelle sfumature che nei film anni 80 probabilmente non erano ammissibili. Il tutto, anche se a trama, non è certo il massimo e spesso volge in direzioni assurde solo per creare appositamente ancora tensioni. L'unica vera nota negativa è l'ultimo episodio della seconda stagione che mi ha lasciato interdetto per l'inutilità di come si evolvono gli eventi. Speriamo quindi che la terza stagione riporti equilibrio. Ho lasciato l'anime a Grezzuko qui come ultimo, non certamente per importanza ma per la sua incredibile particolarità. Presente su Netflix e arrivato alla sua terza stagione, c'è anche una mia foto di repertorio dove a Shibuya incontro la protagonista, è un fantastico anime dedicato alle meccaniche crude e reali della vita privata e dell'ambiente lavorativo in una kaisha per una donna giapponese. Tutto questo è raccontato attraverso personaggi animaliformi, ultimamente di moda negli anime giapponesi, che permettono di trattare argomenti pesanti in maniera più leggera e distaccata, non facendo scandalizzare la società giapponese notoriamente molto inquadrata. Abbiamo imparato ad amare questa dolce tigrottina dall'animo metal, manco fosse Yuriko Tiger, nelle sue disavventure lavorative e amorose nelle precedenti stagioni, ma in questa terza stagione si raggiunge un livello altissimo, affrontando l'ambiente delle idol e di tutto quello che ci sta attorno. Una serie imperdibile che giustamente sarà annoverata tra le migliori di sempre, meriterebbe di essere vista da tutti quelli che pensano Giappone sia il paese migliore del mondo solo perché ha visto frettolosamente i miei video di viaggio dal sollevante. Con questo direi che è tutto, ditemi cosa ne pensate e al prossimo video. Ciao! Ciao!